L'unico che è venuto e ha fatto il casino di partenza. Chi è? Emozionato a questo giro? No, io non sono mai appersonato. Mamma mia, questo è da riprendere. No, no, sto parlando con le donne stamattina, buongiorno. Pronti, Lilli, pronta. Bonto noi, bonto noi. Pronti, donne. Via, 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 via. Via, via. Via, via.